A Viterbo si stanno ancora, divorando le mani, come gettare al vento, due punti preziosi, relaziona sul tema Mister Sottili. Se la regina esce indenne dallo Stadio Rocchi nel recupero della terza giornata di campionato, lo deve anche alle scelte cervellotiche del tecnico della Viterbese. L'idea di privarsi di Saraniti e Pacilli, fino a quel momento devastanti, si rivela un azzardo, un azzardo che la Viterbese paga a caro prezzo. Il conto è salatissimo e porta in dote soltanto un punto che, per quanto prodotto dai padroni di casa per oltre un'ora di gioco, è oggettivamente poco, ma il calcio è fatto così. Non perdona, la regina ringrazia e pur soffrendo le pene dell'inferno, si porta a casa un pareggio che vale come una vittoria perché è arrivato quando nessuno, ma proprio nessuno, sembrava crederci più. E' il primo punto dell'era Gallo ed è griffato Alessio Viola. Dopo la scorpacciata di gol arrivata contro i ragazzini del Matera, l'attaccante si regala un gol pesantissimo. Lo fa subentrando nel secondo tempo, potere di una panchina che si conferma ricca di alternative. Cevoli pesca ancora una volta il jolly e dopo aver rischiato il tracollo nel primo tempo, a 10 dalla fine rimette le cose a posto e conquista così il quinto risultato utile consecutivo, anche se stavolta la prestazione è da dimenticare. Mai visto una regina così in difficoltà, il primo tempo è un tiro al bersaglio, la vita erbese è assoluta padrona del campo, sono almeno cinque le palle gol create dai gialloblu che vincono tutti i duelli. In sintesi, non c'è storia, la regina priva ancora dei nuovi acquisti, si specchia, appare sulle gambe e il passaggio al 3-4-1-2 con Marino a fare da trequartista non si rivela certo una grande idea. San Domenico e Tulissi restano isolati, sugli esterni poi la lotta è impari, Facilli è imprendibile, Van de Putt e Saraniti non sono da meno, il pomeriggio di Confente si trasforma così in un vero e proprio inferno e il gol di Van de Putt, giunto al minuto 33, è la logica conseguenza di un primo tempo di chiara marca locale. La ripartenza di Saraniti è l'emblema di una gara che la regina interpreta come peggio non potrebbe, al resto ci pensa Van de Putt con un destro da antologia. La regina non fa una piega, nel senso che il gol subito non la scuote, anzi nella ripresa è ancora la vita erbese a dettare legge, tocca a Confente allora tenere gli Amaranto in partita, al resto ci pensano Sottili che sul più bello si priva di Saraniti e Pacilli e chissà mai perché, e Cevoli che dopo aver sbagliato le scelte iniziali rimedia a gara in corso, arruolando prima Ungaro e poi Viola e dopo 75 minuti imbarazzanti la regina entra finalmente in partita, il finale è un assedio Amaranto, prima è San Domenico a fare le prove del gol, poi è il turno di Tulissi ma la sua conclusione trova la pronta respinta di Forte, il portiere della vita erbese tuttavia può nulla sulla ribattuta di Alessio Viola e il gol dell'1-1 e siccome il calcio vive di momenti sui titoli di coda la regina potrebbe addirittura portarsi a casa in terra posta in palio ma sarebbe stato oggettivamente troppo, almeno stavolta.